Beh, l'elefante è simpatico, non c'è dubbio, ma non so se è capace di rattoppare un buco. Bene, corpo di mille balene, hanno risolto il puzzle! È un pesce martello! Che idea meravigliosa! Un passeggino fatto di bolle! Incredibile, hanno risolto il puzzle! È un delfino! Guarda meglio, cilindro, non hai ancora visto tutto! Chiumi, chiumi, guarda! Il sole sta tramontando, devo andare a dormire prima che sia diventato buio!